Nebbiamo iniziative, semplici sul tocco insomma. Sì, 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 non potremmo fare manco di fare che non è capace che è stata una sorpresa con cui è venuto il cipo, le plen di Arbatis, no? Quindi ho vendito, ho vendito adottato l'obelisco e ho vendito a presto possibile. Grazie a questi signori che ci hanno informato sull'essere del posto e in direttivo abbiamo deciso di fare del nostro meglio per portare qualche cosa, per ristrutturare qualcosa che meritava. In occasione della ricorrenza nostra del 4 novembre ho pregato l'amico Diego che ritornava in Ungheria per altri motivi di portare su un mazzo di fiori a nome dell'associazione Artiglieri. In direttivo abbiamo un po' preso a cuore, c'è stata una forte emozione nello scoprire questa cosa e abbiamo detto ma perché non andiamo su a ripulire questo cipo? Ci siamo mossi, abbiamo avuto l'aiuto di tutti dell'amministrazione comunale di Pagnaco che si è messa in contatto con l'omologo sindaco di Celdomolk, con il consolato ungherese di Milano, anche lì c'è stata grandissima disponibilità, il consolato stesso si è mosso con i responsabili della manutenzione di questo cimitero e con il sindaco di questo paese nel volgere di veramente poche ore ci hanno aperto tutte le porte e poi ci siamo organizzati per la spedizione abbiamo dovuto rimandarla per vari motivi e i primi di ottobre siamo saliti su in questa località a fare il lavoro. Dato valore anche a questo gemellaggio che è un simbolo di unione appunto tra i comuni d'Europa e che appunto portiamo avanti. Oltre a quello che ha detto la collega La Cultura mi sento di ringraziare gli artiglieri anche per il lavoro che stanno facendo sui monumenti del nostro comune.